Chiara è così Prendiamoci insieme su Uno perché non so esattamente come si pronuncia Due perché sembrava Joe Black Depe Miglio bene La dolce metà degli Orbit Esatto, in Orbit E sempre avrebbe avuto La Devenger a Red Ora, prima che venga il fondo Partiamo con Mediterranean Sundance Questo bellissimo grano che non riconosce Esatto Prendo lo spartito e partiamo subito Vai, vai Io sono già Orbit Spartito Gente attentissima E riceve due file Vero? Non sono buoni One, two, three, four Uno, two, three, four si parliamo? tu provi a fare una cosa vediamo cosa mi informa quindi a parte sinistra ok io a parte sinistra mamma mia è depurato guarda io c'ho lo sopporto è depurato sembra bene così no? si prego la mia parte no ok scusa ti prendo grazie a tutti 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 Temporale! Lo siamo rimasti un po' basiti dalla temporale. Questa è arrivato? L'onccia! L'onccia! Warren De Martini!